Top, mi sembra che mi fai un'altra immagine, stai. Bentornati, finalmente siamo pronti per montare l'impianto di regazione. Un impianto di regazione atipico ma efficace. Il bello di quest'anno di orto è che tutto sta nascendo molto all'inno del riuso. Qua c'è un sacco di materiale che possiamo riutilizzare. Oddio. Oh no, aspetta, aspetta, devo andare a chiudere l'impianto. Non ho pensato a questo dettaglio. Male. Sono fuso ragazzi. Sono fuso. Troppo lavoro. Fu cuoca, parlava di un proverbiale... Dov'era il taglio? Ah, lì, lì. Qui, ok. Ok. C'era ancora della quetta. Eh sì. Ok, qui mettiamo... Una Y che ci devia il flusso per poter portare l'acqua in fuori. Ma per metterci una Y dobbiamo predisporre gli attacchi rapidi femmina che possono agganciarsi. Allora, mentre monto questo pezzo, colgo l'occasione per dire due parole su questo impianto. Le prime esperienze di impianti di irrigazione le ho fatte con dei sistemi ad attacco a pressione, molto faticosi da montare. Troppo faticosi. Io sono un'anima e un corpo molto smidollato. Troppa fatica non mi piace. Quando ho deciso di fare finalmente un impianto di irrigazione in orto in telechia, ho deciso fin da subito, ho detto fin da subito, che sarebbe stato importante fare qualche cosa di veloce, di snello, di rapido da montare e da smontare. Costi quel che costi. Infatti, questi bei giocattolini che si attaccano e si sganciano velocemente sono tra i raccordi più costosi che esistono. Quindi ve lo dico fin da subito. L'impianto di irrigazione che vediamo oggi è il più rapido, il più versatile, il più fluido, ma il più costoso. E qui adesso, dalla portante principale, dalla portante primaria, usciamo creando la portante secondaria. Va da sé che anche questo, per agganciarlo alla Ypsilon, lo muniamo di attacco rapido femmina. Ora, io non voglio pubblicizzare nessuna casa di produzione. Questi sono i raccordi che ho trovato, ma vanno bene di qualunque marca. È il concetto della rapidità che mi affascina. L'idea qual è? L'idea è anche quella di poter avere la linea principale abbastanza fuori dal sentiero. Per non avere troppi problemi, se si deve camminare, se si deve passare con il tagliaerba, eccetera. Allora la creiamo il più marginale possibile. In questo caso abbiamo due attacchi rapidi femmina, una Ypsilon con rubinettini e l'attacco rapido femmina con l'uscita per la manichetta. Questo è il nostro nucleo di oggetti che ci serve per partire con ogni singola fila. All'incirca taglio qui. Sempre metterli prima l'anello, altrimenti... Allora, da lì arriva l'acqua e io la colgo nel maschio attacco rapido montato appositamente. Dal rubinettino di destra faccio continuare il flusso, dal rubinettino di sinistra gli aggancio l'uscita per la manichetta. Se voglio aprire la fila ho il rubinettino, se voglio chiudere la fila ho il rubinettino. Se voglio escludere o includere tutto il settore che è dopo questa fila, ho questo altro rubinettino che mi permette comodamente di farlo. Molto comodo, ma ricordo abbastanza costumido. Vogliamo farci un'idea di prezzi. Questo materiale l'ho preso nel 2019, quindi potrebbero esserci delle variazioni di prezzo, ma indicativamente la Ypsilon semplice costava circa 3 euro. Per ogni attacco rapido femmina erano circa 2,50 euro. La Ypsilon con i rubinettini da sola costava dai 9 ai 10 euro, ma quando te la vendono non c'è questo pezzo che va comprato a parte e costa, mi sembra, dai 2 ai 3 euro. Qui dentro c'è un altro pezzo che va sostituito, ma lo potete vedere in uno dei video che ho fatto nel percorso dell'orto in telekia nel 2019. Vi lascio il link in descrizione se volete vederlo. E questo invece è l'assemblato per portare dall'attacco rapido alla manichetta l'acqua. E qui stiamo circa sui 4 euro in totale. Attacco rapido femmina, attacco a vite per manichetta. Che si avvitano su un passo di tre quarti, uno nell'altro. Giusto così, per dare qualche dato informativo. Stiamo parlando di 20 euro per ogni nucleo da mettere in testa ogni fila, se si prendono questi raccordi. Capite anche voi che in questo senso diventa molto importante fare una portante che abbia pochi raccordi, pochi nuclei e delle file lunghissime. Per cui se io qui ho delle file che partono dal centro del campo e vanno in là, ho una linea di irrigazione con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuclei. E quindi già sono circa 140 euro di materiale qui. Se devo fare un'altra portante lì per irrigare l'altro pezzo del campo, raddoppio. Quindi dovrò fare un'altra in fondo per fare il terzo pezzo, perché questo è stato fatto proprio a pezzettini assemblati assieme. Quell'altro pezzo di campo, ma anche questo l'anno prossimo, lo faremo in un altro modo. Ci sarà un'unica linea all'inizio che parte e ci irriga delle file che devono fin in fondo, proprio per risparmiare sui pezzi. A questo punto la cosa che mi piacerebbe vedere è... E ora vedremo qual è il sistema di irrigazione più veloce da montare. Perché io penso che un impianto di irrigazione non possa essere permanente. L'acqua è un elemento impermanente. L'acqua è fluida. Arriva, si adatta alle cose, poi prende, scivola via. Allora qui ci vuole un impianto altrettanto fluido. Nelle quattro file di mais ho messo le Y con i rubinetti. Perché il mais possiamo aver voglia di chiuderlo a volte, di dargli un po' meno acqua. La mettiamo soprattutto per i fagioli e queste tre Y senza rubinetti le metto invece in zucchine, pomodori e patate che invece gradiscono più acqua indicativamente. Allora, 9 minuti e 47 secondi, dice il drone, per installare i raccordi di sei linee. Con in più che abbiamo messo, impiegato un po' di tempo per scegliere le inquadrature. Quindi è una cosa veramente, veramente veloce. Noi lo guardiamo. Lui ci guarda. Noi ci guardiamo. Le videocamere ci stanno guardando. Anche noi ci guardiamo. L'altro giorno ero con Nicole, siamo andati a fare una consulenza a Reggio Media da un signore che ormai è un amico. Al ritorno ci siamo fermati a Modena, siamo entrati in un bar per prendere un gelato. E il barista, dopo che siamo usciti a mangiarci questo gelato, ci ha seguito per dirci, ma voi siete due artisti. E aveva una faccetta così soddisfatta, così emozionata. E poi siete proprio due artisti. E poi fa, ci vuole coraggio per... Il succo del discorso era per non badarsi come vi state vestendo, per non avere minimamente decenza. E noi eravamo offesi e lusinghetti al tempo stesso. Bellissimo. Ok, il ciceletto qui sta dicendo basta. Ma io insisto, faccio una piccola inquadratura. Grazie a tutti. Sì, è al massimo dell'apertura dell'energia. Aspetta, qui non tolgo. Si scurisce. Ok, sì, è al massimo. Allora io stoppo e... Stop, mi sembra che mi fai un'altra immagine, sai.